Buona domenica 23 agosto, con la speranza di poter vedere ciò che ci circonda, di aumentare la nostra sensibilità nel cogliere l'invisibile che sta intorno a noi, sì di vedere l'invisibile che non richiede una vista potente, potremmo anche essere ciechi, ma questo nulla toglie che noi possiamo cogliere l'invisibile, che è la trascendenza che abita tra di noi, i sottili legami che ci legano alla vita, e tutto questo è l'elemento essenziale della ecologia integrale. Il nostro ruolo è quello di essere soggetti responsabili che vedono i legami, che ne colgono l'essenza e che in base a questo si fanno partecipi alla cura che dobbiamo avere delle relazioni con l'ambiente e con il prossimo. Buona giornata a tutti.